Una buona giornata e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di Fanotv. Oggi è sabato 30 luglio 2022, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, il commento ai giornali che questa mattina come sempre vi sottoporremo, vi proporremo, le abbiamo selezionate per voi queste pagine, anche se oggi come vedremo la maggior parte di queste sono dedicate alla tragedia che si è consumata sotto gli occhi dei passanti a Civita Nuova Marche, un'aggressione, un omicidio, l'uccisione di un ambulante, di una persona che chiedeva l'elemosina e che con ferocia brutale è stato aggredito e ucciso da un uomo, un italiano, ne parleremo tra pochissimo. Intanto però andiamo a vedere, come facciamo di solito, seguendo la scaletta, il Santo del Giorno, oggi San Pietro Crisologo e le previsioni del tempo. Intanto l'alba vedete 5.54, tramonto 20.35. Dicevo andiamo a vedere le previsioni del tempo, anche se a dire il vero queste previsioni, a seguire anche le app, oltre che il sito della protezione civile delle Marche, insomma hanno un'affidabilità che a volte lascia un po' perplessi, però queste sono e queste io vi leggo e vi sottopongo. Allora siamo sulla giornata di oggi, sabato 30, vedete qui l'indicazione della regione con tutte le icone animate, ci indicano temporali, variabilità certamente, pioggia, rovescio e temporali sparsi, soprattutto al mattino. Boh, qui dalle nostre parti neanche una goccia. Localmente anche di forte intensità, non so cosa sta facendo dalle vostre parti, nel resto della regione, ma qui a Fano per esempio il tempo, il cielo è assolutamente tranquillo. Nel pomeriggio ancora possibili fenomeni sparsi sul settore centro-meridionale, vedremo, vedremo. C'è anche un'allerta gialla addirittura, ma non so, ripeto, cosa sta succedendo, ma vedendo il radar, mi pare che anche negli altri posti, insomma, ho guardato il radar qualche secondo fa, non mi pare che ci sia tutto questo, tutti questi temporali. Allora, andiamo per la giornata di domani, ultimo giorno di luglio, invece la costa sarà interessata dal bel tempo, vedete con il sole pieno su tutta la costa adriatica, così come il primo di agosto, eccolo qui, il primo di agosto con precipitazioni assenti e quindi bisognerà aspettare ancora un po' di tempo per rivedere la pioggia, ieri qualcosina, almeno dalle nostre parti, ma poca cosa. Condizioni di tempo stabile fino alla parte centrale della prossima settimana, con temperature in graduale aumento. Allora, adesso andiamo subito a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è l'edizione di peso, ma di tutte le province, la foto grande per questo fatto di cronaca che ha quasi dell'incredibile, ma è successo realmente. Allora, questa è la foto, ucciso per strada, nigeriano rincorso e soffocato nel centro di Civitanova. Allora, il nigeriano è questa persona che vedete qua sotto, è stato braccato e soffocato. Andiamo a vedere l'altra pagina, questo è il resto del Carlino invece, l'edizione di peso, però è il Carlino nazionale. Allora, anche qui la foto notizia è per questo episodio di Civitanova. Il titolo, ucciso nell'indifferenza, un ambulante massacrato di botte in strada tra i passanti, arrestato un operaio, la furia alla richiesta di Elemosina. Ancora, strangolato, entriamo nel dettaglio di questo delitto, qui siamo sul Corriere Adriatico. Allora, che cosa è successo? Inizia così l'articolo del Corriere. Lo ha inseguito, aggredito sul corso Umberto I, fino a togliergli il respiro. Prima lo ha colpito con una stampelle, poi gli è salito sopra e lo ha strangolato a mani nude, senza pietà. È morto così tra l'indifferenza dei passanti, il nigeriano Alika, 39 anni, residente a San Severino. L'assassino è un 32enne originario di Salerno e denunciato a Civitanova, Filippo Claudio Ferlazzo. A scatenare la furia omicida è stato l'atteggiamento molesto della vittima, un mendicante, che vendeva fazzoletti ai passanti. La stava importunando, avrebbe poi riferito l'aggressore, chiedeva soldi con insistenza. Poi qualche parola di troppo nei confronti della donna, ha fatto scattare la reazione shock del campano. Ha afferrato così la stampella con cui il nigeriano si aiutava in quanto aveva difficoltà motorie dopo un incidente stradale e l'ha usata praticamente come arma. Lo ha colpito ripetutamente, una collutazione molto violenta e Ferlazzo, quindi l'aggressore, ha avuto la meglio. Di corporatura robusta, ha poi schiacciato a terra il nigeriano sedendosi sopra di lui. Gli ha preso un braccio e dopo un combattimento è andato avanti per diversi secondi, lo ha soffocato portandogli via il cellulare. E attenzione, l'ho messo in rosso, tutto sotto gli occhi dei passanti, nessuno è intervenuto mentre c'era chi filmava con il telefonino, solo qualcuno ha provato a chiedergli di fermarsi, urlando basta, basta, così lo ammazzi, ma non è servito a nulla. Il mendicante è morto poco dopo, in pochi istanti, sono arrivati poi il 118, la polizia. Ferlazzo, l'aggressore che vive a Civitanova dallo scorso maggio, aveva cercato di fuggire, ma gli agenti della volante lo hanno bloccato poco dopo grazie alle indicazioni di alcuni testimoni. L'uomo è stato portato in commissariato e arrestato. E ovviamente finirà la sua vita in carcere, ovviamente, ma questo non cambia l'esito di questa brutta storia. Alica era in Italia da 16 anni, viveva, come abbiamo già detto, a San Severino Marche, aveva un figlio. Sua moglie è disoccupata, racconta ancora il Corriere Adriatico, e la famiglia di religione cattolica andava avanti con i soldi che il 39enne riusciva a guadagnare chiedendole lemosina un po' macerata, un po' a Civitanova. Tanti lo conoscevano, anche un avvocato, Francesco Mantella, che assiste la famiglia del nigeriano e che racconta, al giornale dice, quando ho saputo che sul corso, quindi a Civitanova, sul corso era stato ucciso un nigeriano che camminava con una stampella, ho capito subito che si trattava di Alica. Stavo seguendo la sua pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre lo avevo assistito a seguito di un incidente in cui era rimasto ferito e a seguito del quale aveva dovuto usare la stampella. Aveva ottenuto un risarcimento da parte dell'assicurazione, ma il processo ancora doveva iniziare. Sempre il Corriere Adriatico, questa è la fotografia della vittima, eccolo qua, vedete mentre indossa la corona del rosario, è la vittima Alica. Qui in questo articolo di Daniel Fermanelli e Chiara Marinelli si mettono in evidenza un po' le testimonianze, persone che abitano lì, che dicono di aver sentito delle urla. Io abito proprio qui sopra, racconta una persona, e sono sceso subito, ha raccontato quest'uomo che è un giornalista dell'Est Europa, che però vuole rimanere anonimo. Sentivo urlare, aiuto, aiuto, ho visto il nigeriano per terra, l'aggressore era già fuggito. Ho chiamato subito l'ambulanza, nel frattempo è passato un bagnino che ha eseguito le prime disperate manovre di rianimazione, poi sono arrivati la polizia, i soccorritori hanno fatto veramente di tutto per salvargli la vita, ma è stato tutto inutile. E ancora dal Corriere Adriatico, Fermati così lo ammazzi, questo è il titolo virgolettato, la morte in diretta nel video, le scene drammatiche dell'omicidio riprese con un cellulare dai passanti, la paura della gente, basta, arrivano le guardie, ma nessuno interviene. Il titolo Stefano Rispoli scrive nell'attacco di questo pezzo, fermati subito, lo ammazzi così e basta, arrivano le guardie. Insomma, tutti urlano, tremano, un anziano è seduto su una panchina lì a due passi, pensa a placare il suo cagnolino che abbaia senza sosta, qualcuno filma la scena con un cellulare, nessuno però, nessuno interviene, nessuno. L'omicidio ripreso in diretta, tutti fermi a guardare come spettatori al cinema, davanti ad un thrilling. Le scene di follia scorrono sotto gli occhi dei passanti, residenti e negozianti. Poi queste immagini rimbalzeranno per tutto il giorno sui telefonini, sulle chat, su internet, in televisione e colpisce in primo luogo la violenza con cui Filippo Claudio Ferlazzo si accanisce contro Alica, gli salta addosso, gli schiaccia la testa a terra. Il video ad un certo punto si interrompe, il nigeriano morirà poco dopo strangolato. E poi ci sono le considerazioni che vi lascio leggere sul giornale di questa mattina che riguardano l'indifferenza. Ecco, non c'è molto da aggiungere su quello che è stato scritto, su quello che è stato detto. Credo che al momento ciò che occorra sia da parte nostra, di ciascuno di noi, e un po' di silenzio per capire cosa avremmo fatto noi per esempio e come sta andando un po'. Per fare un po' mente locale, ma nel silenzio, senza stare a dare giudizi perché tanto bisogna esserci poi nelle cose. Certo è che con tutti questi social, con tutti questi telefonini, con tutti questi... tutto il giorno a guardare fiction, cose realizzate ad arte e non vere, che sembrano però vere, hanno inquinato la nostra mente, l'hanno inquinata. Su questo c'è poco da dire. Non è un giudizio, è una presa d'atto, una presa di coscienza. Stiamo modificandoci, stiamo cambiando. La sacralità della vita la stiamo perdendo. E questi sono i risultati. Mi fermo qui. Chiedeva soldi, era invadente. La fidanzata dell'assassino dice si è avvicinato il mio compagno e ha perso le staffe. Ecco, quell'uomo, qui viene sottolineato più volte l'insistenza di questa persona, che ovviamente non giustifica nella maniera più assoluta nulla, però, ecco, sono, oltre alla compagna, anche altre persone parlano di insistenza. Quell'uomo chiedeva i soldi con insistenza, si è avvicinato a me con grande invadenza e il mio compagno ha perso le staffe. Lo ha raccontato la polizia e la compagna di Filippo Claudio Ferlazzo, la donna che è una civita novese di 45 anni, che è stata sentita, ovviamente, in commissariato come persona infermata sui fatti dagli agenti della squadra mobile della questura di Macerata. Smentita, invece, l'ipotesi di cui si era parlato in un primo momento, secondo cui la donna aveva ricevuto apprezzamenti e molestie di tipo sessuale da parte del nigeriano. Il compagno del 45enne, originario invece di Salerno, quindi l'aggressore, vive in provincia di Macerata dallo scorso maggio e lavora come operaio metalmeccanico in un'azienda di Civitanova Alta. Era già finito nel mirino delle forze dell'ordine, ne scrive Daniel Fermanelli, era già finito nel mirino delle forze dell'ordine nell'ambito di un'indagine per reati contro il patrimonio, ma mai si era reso protagonista di episodi di violenza. Il primo cittadino, invece, il sindaco di Civitanova, ha condannato questo gesto, ha parlato di un gesto che appunto condanniamo fortemente, questo è il commento di Fabrizio Ciarapica, poche ore dopo l'omicidio di Alica. Velocemente, andiamo a vedere cosa scrive invece il resto del carino. Queste sono invece alcune, vedete, fotografie qui sulla destra del vostro teleschermo, i tentativi disperati di salvare la vita di questo ambulante che è qui steso a terra, vedete, mentre cercano in qualche modo sanitari e non solo sanitari, perché credo che gli stiano praticando una sorta di massaggio cardiaco, ma non credo che sia un sanitario, è in ciabatte, probabilmente uno che, forse il bagnino di cui parlava il Corriere Adriatico, insomma, tutti hanno cercato poi, una volta che l'aggressore se n'è andato, quindi c'era probabilmente anche un po' di sicurezza in più per gli altri, ecco, tutti hanno cercato di aiutare e di salvare la vita di questa povera persona. Dammi qualche soldo massacrato di botte in mezzo alla strada, poi in realtà è stato soffocato. Tra sgomento e rabbia, le lacrime della moglie invece di Alica, voglio vedere in faccia il killer, queste sono la sequenza, vedete, delle immagini, non c'è nessuno attorno, sono completamente soli, tanta gente che però, ecco, era lì a quell'ora a guardare. Le lacrime della moglie, dicevo, la donna aveva raggiunto il marito in Italia, la coppia aveva un figlio piccolo, cosa gli aveva fatto di male? Si domanda, mentre il Carlino, sulla pagina nazionale, parla di orrore in video e la solidarietà che ci manca. Lo scrive Massimo Pandolfi, qui di Spalla, Morire in diretta ammazzato, in pieno centro nella tranquilla Civitanova Marche, 40.000 anime alle 2 del pomeriggio, in mezzo alla gente che guarda, magari in film, ma non interviene. Osservate i fermo immagini che pubblichiamo in questa pagina e poi aprite il video sul nostro sito internet, dura 39 secondi e sono 39 secondi interminabili. e qui ci sono le considerazioni che fa il giornale su quello che è accaduto. Andiamo ancora avanti sull'altra pagina, questa volta siamo sulle pagine interne della cronaca di Macerata. L'aggressore è scappato a piedi, l'ho seguito e i poliziotti l'hanno preso. Un testimone si è messo sulle tracce del campano che stava scappando, aveva il cappello abbassato, ma non sembrava scosso e cercava di far apparire che stesse facendo una passeggiata. È il racconto di Francesco Rossetti e comincia così. Dopo averlo lasciato ormai morto a terra, l'aggressore si è allontanato a piedi, l'ho seguito, poi l'ho indicato alla polizia. Questo è il racconto di questo civitanovese che preferisce restare anonimo, che si trovava in corso Umberto I a Civitanova intorno alle 14, proprio quando si è consumato l'omicidio ai danni di Alicca, questo ambulante di 39 anni. Sono sceso di casa e ho visto un gruppo di persone che additavano un uomo con il cappello. Gli gridavano, ma che cosa hai fatto? Lo hai ammazzato? Io sono arrivato a pochi metri, ho visto l'aggressore agitarsi di fronte alle accuse e lanciare una stampella addosso alle auto parcheggiate, probabilmente per impaurire i presetti, poi si è allontanato a piedi, sempre lungo corso Umberto I, in direzione nord. A questo punto, dice lui, ho deciso, e ha fatto bene, di seguirlo, anche perché ho pensato che se non l'avessi fatto io forse non l'avrebbe fatto nessuno. Chiaro, l'avrebbero preso poco dopo, ma comunque ha fatto bene. Sono rimasto però sempre un po' a distanza, cercando di non farmi mai vedere da lui. Il racconto del testimone poi è molto dettagliato e ve lo lascio alla lettura. Chiudiamo la pagina, le pagine dedicate a questo terribile episodio di cronache. Apriamo le pagine locali. Allora, uno sguardo anche all'orologio. Iniziamo, andiamo a vedere la pagina di Pesaro, invece del Carlino. Allora, in apertura, la questione delle guardie mediche, una battaglia totale, mobilitazione del PD in città a Fano, in città a Pesaro e a Fano, il servizio va ripristinato al più presto, raccolte 200 firme. Poi invece la fotonotizia è per gli assediati dai supermercati. Sono i piccoli commercianti, sono coloro che hanno le piccole botteghe, quelle dove le nostre nonne andavano a fare la spesa, forse qualche mamma, ma insomma, quelle che sono sempre di meno. Eurospin in via Trometta, la rabbia dei commercianti e del scontro politico. Sapete, ieri il Carlino ha dato la notizia che a Pesaro aprirà nei prossimi mesi il quarto supermercato, grande supermercato, nel giro di pochi metri, in un quartiere dove, ripeto, già ci sono tanti supermercati. questo sta creando polemiche in città e non solo tra i piccoli commercianti e il dettaglio che si sentono assediati da queste grandi catene commerciali. Ieri facevamo notare anche il fatto appunto che nonostante si parli di crisi, continuano ad aprire e a spuntare come funghi. Mentre le altre notizie, Biancani-Vimini, parliamo di elezioni, Biancani-Vimini soltanto uno dei due nella rosa dei nomi DEM, poi accoglie al Metauro, lavori pubblici a favore del sindaco, briganti sotto accusa, aziende, BS fatturato meglio del 2018, semestrale da record. E ancora sotto, lo sport, doccia fredda, condelia, WL dopo la beffa, ora si torna su Meieris. Meieris e poi la VIS cerca l'accordo con Pucciarelli. Andiamo nelle pagine interne del Carlino di Pesero, pagina 2, nella giungla dei supermercati, ci aggrappiamo solo alla qualità e la gente adesso cerca la qualità, questo è vero, cerca di risparmiare, questo sì, ma cerca anche la qualità. Commercianti in rivolta per l'apertura dell'Eurospin in via Trometta, chiude un negozio in via Lanza, gli altri dicono rapporto con il cliente, prodotti di prima scelta e spesa a casa, ma quanto reggeremo così? E dunque nel quartiere di Pantano, alta Calcinari, sanno che nella grande superficie vicino alla rotatoria sorgerà questo, presto, un altrettanto grande supermercato, l'Eurospin. E quindi questo creerà non pochi problemi. Già qualcuno ha chiuso bottega, baracca e burattini e se n'è andato. Gli altri provano a resistere, provano a resistere, ma non si sa fino a quando. Invece sulla pagina di Fano questa bella immagine della darsena borghese che sarà inaugurata ufficialmente lunedì con il primo stralcio dei lavori che è stato completato. Ebbene, insomma, sarà curioso, bello vedere questa... Intanto anche la foto è molto suggestiva, molto bella, con questo gioco di luci. Guardate che roba. Dal vivo è un angolo di città, ripeto, un po' nascosto, perché sta un po' sotto, però è veramente bello. Darsena borghese, in porto la riqualificazione, sarà inaugurato lunedì. Il sindaco dice, completando anche il secondo stralcio, avremo reso la nostra città più magica, insomma, più bella, più che magica, più bella, sicuramente più bella. Quando ci sarà poi questa passeggiata che da qui, dalla darsena borghese, arriverà fino al mare, sarà veramente un piacere, secondo me, andarci a fare due passi. Mentre la pagina di Fano del Corriere è meno romantica, al Santa Croce, 50 posti di ortopedia, il centro-sinistra ora ha cambiato idea, ha abbandonato il progetto della clinica privata a Chiaruccia, se risale soddisfatto sul nuovo carro. Vota stranamente soltanto contro Fratelli d'Italia, sullo sfondo il conflitto con il progetto per le terme. Mentre rifiuti discutiamo e risolviamo il problema, vedete il sindaco di terre roveresche Antonio Sebastianelli, convocati dal sindaco di terre Fano e i comuni dell'ex comunità montana. Per la darsena borghese le luci di uno spettacolo, l'accensione lunedì alle ore 21, per la conclusione dei lavori con un anno di ritardo. Mentre sempre sulla pagina di Fano del Corriere, principio d'incendio alla torrefazione di Ultramar, un motore si surriscalda e i vigili del fuoco entrano in azione. Dunque fiamme nella sede di Ultramar Caffè, un'impresa che lavora il caffè a Fano nella zona dell'ex zuccherificio. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio per domare l'incendio, sviluppatesi dal surriscaldamento di un motore elettrico dell'impianto per la torrefazione. Alla fine però l'intervento antincendio è stato effettuato da una squadra di distaccamento di Fano, cui ha dato supporto anche il personale di un'autoscala proveniente da Pesaro. Ancora nove proposte di salvaguardia ambientale, ecco secondo Argonauta le emergenze principali nel territorio fanese e poi da Senigallia invece. Sai dove si trovano le squillo, cioè le prostitute, poi in tre lo colpiscono alla testa. Il padre picchiato e il figlio cercano di farsi giustizia da soli, denunciati per porto abusivo di armi. Praticamente che cosa è successo? Il racconto lo fa Sabrina Marinelli questa mattina sul giornale sul Corriere Adriatico di Senigallia. Praticamente a un certo punto una persona che vive sul lungomare in via Mamiani ha chiamato il numero unico di emergenza dicendo che c'erano due persone sotto case che stavano urlando, qualcuno brandiva una mazza da baseball eccetera. Sono arrivate le forze dell'ordine hanno fermato queste due persone un giovane di 20 anni e uno di 40 erano rispettivamente figlio e padre padre quarantenne figlio ventenne e quando li hanno fermati insomma uno aveva la mazza da baseball l'altro aveva una pistola finta un po' di robette quello che vedete nella fotografia del giornale e quando gli hanno chiesto spiegazioni chiaramente il papà ha detto di essere stato colpito da una persona che era con altre due persone le quali gli avevano chiesto dove potevano trovare l'esquillo a Senigallia ecco il papà è tornato a casa ha detto al figlio che era stato colpito da uno di questi e il figlio ha detto beh probabilmente si saranno messi d'accordo per andarli a cercare e farsi giustizia da soli in qualche modo solo che poi non li hanno trovati questi tre nel contempo nel frattempo si sono beccati invece una denuncia da parte della polizia questo è un po' quello che è successo ve l'ho raccontato senza stare a leggere l'articolo allora non so questa pagina è rimasta un po' isolata ma ve la leggo lo stesso qui siamo sulla pagina di Macerata torniamo alla notizia principale qui parla il sindaco di Civitanova Marche Ciarapica dice grande dolore la nostra città non è questo condanno ogni atto di violenza ora riunione straordinaria con il prefetto Acquaroli il presidente della regione dice sconvolto addolorato esprime un profondo cordoglio alla famiglia del cittadino nigeriano brutalmente ucciso mentre Corvatta colpisce indifferenza di quanti hanno assistito alla scena e non sono intervenuti c'è un clima di intolleranza la pagina di Urbino invece musica antica è tornato il grande pubblico Giovanni Togni direttore dei corsi dice per noi entusiasmo alle stelle viste le presenze anche di tanti studenti stranieri sotto invece un gioco per Federico sarà un successo per i 600 anni del Duca prodotte delle carte per creare strategie tipiche del rinascimento allora andiamo invece all'ultima pagina quella di sport vediamola subito quella che riguarda il calcio il Fano sfida stimolante per il Fano il tecnico Mosconi chiede subito le prime risposte nel test delle 17.30 sul campo del Gubbio sarà un banco di prova tosto con una squadra di serie C curioso di vedere dice come iniziano i miei queste sono le parole dell'allenatore Andrea Mosconi ieri intanto è arrivato invece Profili Leo Profili lo vedete in questa immagine seconda immagine seconda fotografia io credo che non c'è Fanese che non conosca Leo Profili massaggiatore storico massaggiatore appena rientrato nei ranghi dopo una breve separazione ebbene rientrato nella società e a lui auguriamo buon lavoro pensate questa è una cosa personale per chiudere anche per chiudere le 7.30 allora Leo Profili quando io ho iniziato i miei primi passi nel mondo della comunicazione ho iniziato facendo proprio lo speaker allo stadio al Fano Calcio ebbene 34 anni fa ho iniziato e Leo Profili era lì ed è uguale a 34 anni fa e faceva il massaggiatore del Fano quindi è sempre un piacere rivederlo è tutto è un piacere rivedere anche voi cari telespettatori se vorrete stasera alle 20.30 c'è 7 per occhio il magazine con le notizie più importanti della settimana grazie per essere stati con noi buon fine settimana a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti